vi sembra vuota? parrebbe di sì e invece? e invece? l'abbraccio del papà il tuo abbraccio papà è grande come il mare mi stringi forte al cuore e mi sai consolare il tuo abbraccio papà è caldo più del sole mi guida e mi incoraggia più di mille parole il tuo abbraccio papà è come il cielo blu grilla di mille stelle la più bella sei tu colore delus il spero vivamente che gli venga un accidente che si becchi l'influenza e finisca l'energia che ora è? Peter Coniglio? la Pasqua me mi sono neanche immaginato andavamo colorato perché era per la gente da l'arente all'Occidente pieno, pieno di solprese mi è finata in ogni paese mi è finata in ogni paese la sciaggia tanta tenenza a sui bella a bostà io gli ho in grandi e tante da faccia pace e faccia amore da da impire tanti cuori dobbiamo fare qualcosa non possiamo stare senza far niente ma chi ha detto che dovete stare senza far niente? a casa ci sono tante cose da fare ad esempio potremmo essere utili facendo per bene la raccolta differenziata la raccolta differenziata sono cuoricino e domani e in questi giorni vi accompagnerò alla scoperta di tante 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 cose belle la primavera sta arrivando primavera su capelli che cos'è nella cestella? io vi porto biancospini di nuovi giuzzellini erbe e fiori lungo i fossi al pedale di fianco a rossi suore tirano occhie e rane dolci suoni di campane la scuola siamo tutti noi oltre i banchi oltre le difficoltà torneremo più forti diciamo un po' di un po' di